Come parte civile abbiamo discusso, ci siamo sostanzialmente associate alle richieste di rinvio a giudizio del pubblico ministero, compatti perché crediamo che sia palese la responsabilità di tutti gli imputati. È stato il giorno delle oltre 2.000 parti civili, gli obbligazionisti e gli azionisti della vecchia Banca Etruria azzerati a seguito del decreto Salva Banche del 2015 e del commissario liquidatore Giuseppe Santoni. Si è tornati in aula questa mattina per l'udienza preliminare relativa al crack di Banca Etruria di fronte al gruppo Giampiero Borraccia. 31 gli imputati tra ex vertici amministratori e sindaci revisori accusati a vario titolo di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice. Nella scorsa udienza il PM Endera Claudiani aveva chiesto il rinvio a giudizio per tutti gli imputati. Quattro di loro invece avevano optato per il rito abbreviato, richiesta alla quale si sono associate tutte le parti civili. Ognuno ha evidenziato gli aspetti che ha ritenuto più opportuno amplificare o sottolineare. In particolare sono state evidenziate le attività di indagine che hanno portato alla conclusione della responsabilità evidente, sia dolosa che colposa, sia degli amministratori che dei sindaci, dei componenti del comitato dei crediti. Il tutto a danno dei contribuenti che ogni giorno che passa vedono ridursi al lumicino le proprie speranze di recuperare almeno in parte quello che hanno perso. Atteso particolarmente l'intervento dell'avvocato Giacomo Satta che rappresenta in aula il liquidatore della vecchia banca Etruria, l'unico che potrà chiedere i danni patrimoniali. Ha parlato più di tutti evidenziando anche gli aspetti tecnici ed evidenziando le violazioni delle normative bancarie sull'erogazione del credito da cui si palesa che sostanzialmente i soldi venivano dati senza un'adeguata istruttoria e quindi con la consapevole certezza o alta probabilità che quei soldi non sarebbero mai rientrati nelle casse della banca fra l'altro soldi che poi venivano presi contestualmente e parallelamente dai risparmiatori con le emissioni delle obbligazioni. La prossima udienza è stata fissata per il 28 febbraio, giorno in cui prenderanno la parola le difese degli imputati.